Facendo un passo indietro, analizziamo un attimo la gara di Gravina e poi proiettiamoci allo scoglio Cerignola che è sicuramente uno dei più difficili e importanti di questa stagione. Sì, veniamo da una grande vittoria a Gravina dove tutti ci davano per spacciati perché comunque il Gravina è sempre stata una squadra ostica che ha sempre fatto bene contro le squadre importanti, siamo riusciti a vincere su un campo difficile, abbiamo fatto una grande vittoria da squadra e adesso ci proiettiamo a questa altra grande gara che ci aspetta domani contro il Cerignola, una squadra che comunque all'inizio del campionato era partita per vincere questo campionato e ci auguriamo una bella partita domani. Sarà uno scoglio come detto difficile da affrontare anche per i nomi, soprattutto tu Paolo in difesa dovrai avere a che fare con il rientrante Rodriguez ma ci sarà Sansone, Loiodice, Marotta, insomma un organico importante. Il Bitonto cosa deve fare per evitare che le bocche da fuoco del Cerignola possano far male? Sì, sicuramente hanno giocatori importanti davanti, noi ci dobbiamo comportare sempre come ogni domenica, difendere da squadra e attaccare da squadra, speriamo che vada tutto bene. L'entusiasmo del gruppo che sa comunque che sicuramente questa è una partita importante anche guardando alla classifica, come si è allenato il Bitonto, qual è l'entusiasmo del gruppo Bitonto in vista di questa sfida? Sicuramente abbiamo tanto entusiasmo perché comunque sono gare che tutti i giocatori vorrebbero giocare, poi da domani mancano 11 gare e via vai, viene finendo il campionato.